Proiezioni cinematografiche all'aperto tra castello e spiaggia, spettacoli che interesseranno tutti gli angoli della città e coinvolgeranno artisti locali ma anche di caratura nazionale. Sarà l'estate della ripartenza, va in scena il cartellone 2021 della città di Barletta. Il programma presentato in conferenza stampa Palazzo di Città è il frutto di un lungo lavoro sinergico tra amministrazione comunale e associazioni culturali. Un cartellone che possa essere un cartellone della ripartenza in un anno ancora particolare e coinvolgendo un po' tutta la città di Barletta, Castello, Palazzo della Marra, Parco dell'Umanità, Piazza Marina, Canne della Battaglia, anche Montaltino, avremo un evento a Montaltino e un po' dedicato a tutti, agli amanti della lettura, della musica, ai bambini, soprattutto anche ai bambini. Tra i tanti appuntamenti in programma spiccano i tre spettacoli ospitati dal Fossato del Castello. Il 21 di luglio al Castello, gratuito, la proiezione del film Il Sorpasso con Gasman, che sarà anticipato da un intervento lettura dell'attore Fabio Troiano, il nostro direttore artistico del Teatro Curci. Qui avremo tre spettacoli nel Fossato, Arturo Brachetti con una prima nazionale, io Pierino e l'altro, avremo il musical con Gio Di Tonno e altri artisti da La Dolce Vita a Notre Dame e la grande orchestra tributa a Ennio Morricone. Oltre ad eventi che verranno svolti insieme ad altre associazioni, così come quella del cinema, quindi la programmazione cinematografica che ogni anno facciamo al Castello e il supporto alle attività collaterali del cinema che si terrà in spiaggia. A chiudere la stagione ci sarà, come di consueto, la rievocazione della disfida. L'evento di chiusura, così come ogni anno, è il grande musical dedicato alla disfida di Barletta che si terrà nel Fossato, quest'anno in forma di musical e cercheremo di onorare, come ogni anno, l'evento dedicato alla disfida di Barletta. Le attenzioni dell'amministrazione sono già rivolte al prossimo anno, possibile per l'estate 2022, il ritorno a Barletta di Giovanotti, già protagonista nel 2019 di un concerto che portò sulla Litorania Pietro Mennea ben 40.000 persone. C'è questa possibilità, abbiamo avviato con la società che porta in giro il tournée di Giovanotti la possibilità di candidare alla città di Barletta, ci stiamo lavorando, abbiamo dato la nostra disponibilità, speriamo che Barletta possa accogliere il prossimo anno il tour di Giovanotti se questo dovesse ritornare, perché ovviamente è tutto organizzato in base a quello che potrà accadere. Noi siamo pronti, abbiamo dato la nostra disponibilità e speriamo che Barletta lo possa ospitare nuovamente.